ciao creatura io sono meccati splendenti e benvenuta, bentornata nel regno di colai ASMR altro chit chat dove platteriamo un po' di alcune cose e anche un chit chat dove ti dico alcuni canali che mi stanno piacendo tanto in questo periodo che non suono ASMR mentre mi metto i miei serie cremine così facciamo un po' di suoni, stiamo tra di noi tranquille non dobbiamo pensare a nulla, poi ce ne andiamo a letto a fare le nanne è un momento che ci prendiamo per noi un momento solo nostro, creatura mi sono sparata la luce in faccia tipo Barbara Tuzzo perché se mi metto il siero e le creme così non posso essere truccata non ha alcun senso ho ancora questo siero contorno occhi non è un placement ovviamente lo uso davvero comunque volevo raccontarti che sto cercando di farmi ricrescere le unghie ce l'ho quasi fatta quasi insomma ce ne vuole un po' che devono, non saranno mai pari però almeno averle decentemente le unghie tipo così non so se si vede perché vorrei andare da un estetista a farmi la ricostruzione però se sono troppo corte non credo si possa fare o comunque mi vergogno non voglio andare con le unghie troppo decisamente troppo corte e quindi questo pensiero di quindi dobbiamo andare a farci fare le unghie mi fa dire ok non mangiartene non rovinarle tienile bene perché poi dopo ce le farà carine e però ti racconto cosa è successo no ho cercato su google delle centri estetici del mio paese che fanno dove c'è scritto che fanno ricostruzione unghie nail art e cose del genere e appunto ho chiesto io me lo metto anche qua perchè qua ne ho selezionato uno che era abbastanza diciamo vicino a casa mia a piedi si va tranquillamente e in zona poste del mio paese e cosa è successo ho contattato ho contattato questo centro estetico e ho chiesto appunto se c'era posto per andare a fare le unghie e ho avuto una risposta che veramente ci sono rimasta male che mi ha detto che lei ha già tutte le sue clienti scusa se ti fanno schifo i miei soldi che non c'era posto perchè lei aveva già tutte le sue clienti e non voleva clienti nuove ti fanno schifo i miei soldi quindi mi sta dicendo cioè io ho parlato con altre persone che lavorano in centri estetici non qui del mio paese e mi hanno detto che è una risposta proprio brutta perchè un conto è dire attualmente non c'è non abbiamo posto però ti faremo sapere e un conto è dirti proprio no come per dire no tu non puoi venire stella veramente ci sono rimasto tanto male se qualcuno mi chiederà consiglio su al mio paese sicuramente parlerò molto bene di te stella fidati che è proprio così adesso mi metto quello alla bella di lumacca su tutta la faccia dopo mi metto la crema che in realtà mi sta aiutando un sacco non so spiegare ma io vedo la differenza e la prima cosa che ti volevo confidare creatura è questa veramente adesso ho già addocchiato diciamo un altro centro estetico in un paese aspetto che crescano come dico io e poi di contatto sperando che appunto non mi rispondano male come l'altro cioè che risposta è veramente io scioccato non sto scioccata e tutta filamento ogni volta mi fa senso e fredda camera mia c'è freddo infatti mi sono messa due fili uno sopra l'altra se vedi qua questa è quella di nightmare before christmas natalizio e certo che con le cuffie non si va tanto bene però non può e sopra ho quella militare perché c'è freddo in camera mia cioè veramente oggi c'è anche la nebbia un po' come tutti i giorni di febbraio niente non vedo l'ora che passi febbraio perché è è proprio un mese brutto qua da noi cioè sembra la nebbia ma fitta 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 più che a gennaio cioè proprio è il mese della nebbia qua da noi ne metto un altro po' di qua perché non ce n'era tanto sento la differenza con l'altra guance e le unghie che vorrei farmi non ti aspetti che unghie vorrei farmi infatti adesso te lo dico poi dopo non è detto che le farò perché 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 bisogna vedere se se è d'accordo anche l'estetista però in realtà non sono chissà cosa strana vorrei farmele un po' più lunghe cioè non esageratamente lunghe ma una cosa normale non so se non so se non so se farmele tipo quadrate o quelle a mandala mi piacciono di più anche perché mi sembrano anche più facili perché adesso avrei avuto sempre corte facendomele quando mi mettevo le unghie finte per esempio mi si staccavano subito quindi non sono abituata a portarle in teoria con il gel la ricostruzione dovrebbero non saltare via il primo movimento e quindi per quello vorrei farmene e poi appunto per fare anche tapping e avere sempre le mani a posto per i video perché mi vergogno avere queste mani qua cioè le mani sono belle sono le unghie che sono brutte poi magari eviterò anche di spelleggiarmi le dita perché adesso ovviamente sono un po' un macello però sicuramente quando mi vedrò le unghie belle poi mi verrà che più più voglia di non spelleggiarmi e averle sempre più belle ecco dal mio punto di vista poi vedremo insomma vorrei farle semplicemente nude finte 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 realistiche no? come si dice che sembrano quelle mie più o meno no? colore nude mi piacerebbe che così sono proprio semplici semplici tanto per averle a posto perché se inizi a farmi le nere quando le voglio nude nude rosa nude e eleganti semplici tanto per averle a posto non c'è bisogno di esagerare neanche con la lunghezza una cosa tranquilla beh elegante tranquilla normale adesso mi metto quella la crema per il viso e alla lumaca bella smoncicosa bella ops qua non ce ne eccoci qua allora parliamo di canali che attualmente guardo perché io ne guardo tanti di canali però in realtà non ne guardo tanti cioè diciamo che ne seguo che sono iscritta a tanti canali però vado a periodi un periodo preferisco alcune cose alcune persone altre altre insomma penso che sia normale per tutti questa cosa no? o no? anche con la smr ci sono di periodi che sono più fissata con un artista e altri periodi in cui sono più fissata con altri e non so se questa cosa capita anche a te adesso la mia faccia sarà diventata rossa perché basta guardarmi e divento rossa perché sono la pelle delicata quindi basta solo che mi tocca un po' e dopo mi torna vabbè allora in questo periodo mi piace tanto guarda che è un periodo abbastanza lungo perché è già dell'anno scorso che questo periodo va avanti mi piace vedere i video di Silvia dalla torre che è ti racconto un po' così quello che mi piace ti racconto un po' di Silvia anche se non so tante cose è Silvia della torre è proprio il nome cognome suo è proprio il nome del canale è una ragazza veneta quindi va finalmente un'altra ragazza veneta che fa video però lei non li fa ASMR fa video con il tema principale il cibo quindi possiamo dire che Silvia è una ragazza veneta a cui piace mangiare i birri e giustamente essendo veneta beve anche abbastanza alco infatti ha detto non prendetemi come esempio perché io bevo birra bevo vino quasi ogni giorno quindi non prendetemi come esempio e è anche onesta insomma tante persone che fanno video con un grande seguito fincono che non sia così ma magari bevono però devono fare quelli family friendly quindi fincono che non abbiano mai bevuto un bicchiere d'alco in tutta la loro vita lo so perché ho visto delle scene che dico se lo stai dicendo davvero proprio tu vabbè e quindi c'è questa Silvia questa ragazza che convive con che ha la sua partner si chiama Marta quindi ho detto no io devo seguirmi io l'ho conosciuta perché mi erano spugati fuori dei video delle tipo mangio per una settimana cosa X tipo non lo so la settimana americana di Lidl la settimana messicana non lo so sto inventando adesso beh potrei andare a vedere un po' di titoli in realtà la torre ha attualmente 28.100 iscritti anche se ne meriterebbe di più secondo il mio punto di vista però ovviamente sempre quello che pensi sempre del del canale dell'artista del creators che stai seguendo no perché se no non lo seguiresti e allora vediamo un po' di titoli intanto per farti capire il format Little vegan ultima settimana ah perché ha fatto anche le settimane del veganuary che era il gennaio vegano e lei ha fatto ogni settimana per esempio ha fatto settimana vegana solo dei liberi settimana vegana con le ricette di little vegan witch perché ha comprato questo nuovo libro e little vegan poi ogni tanto risponde alle domande poi all you can eat di cibo veneto più pranzo dei cucini settimana di cibo solo toscano ho provato a fare la pizza come in pizzeria settimana pugliese in Puglia vado al food festival settimana orientale del Lidl vado a mangiare ramen con Italy foodborne io e Marta rispondiamo alle vostre domande un giorno nella mia testa mi ha fatto il burrito settimana americana del Lidl voi fate i video tipo esperimenti mi ricordo un po' un luis quando fa questi esperimenti un luisal versione femminile versione anche un po' più tranquilla perché luis fa delle cose un po' tipo le abbuffate o quando si metteva a fare a testa in giù a bere l'acqua tipo quelle cose lì che dici ma perché dovresti fare una cosa del genere quando si spingeva oltre e andava anche a vomitare ecco non è così però ha queste idee un po' così che dici ma come te è venuta in mente sta roba e l'ha anche fatta cioè capito tipo quanto riesco a camminare senza fermarmi ha passato tutto il video a camminare non si è mai fermata è arrivata tipo fino a Rovico da Ferrara una cosa del genere mi è piaciuto troppo quel video gli ho anche commentato soprattutto sui commenti lei risponde sempre e io ho anche delle domande lei non si fa problemi cioè puoi fare delle domande dei commenti che sono un po' così fuori dalle righe i miei e lei non è che si scandalizza o diciamo ma che cazzo che mi chiedi stai fuori e lei ti risponde seriamente e io l'atturo per questo perché io avevo il dubbio ho detto ma quando hai fatto pipì perché nel video non c'è mai una pausa pipì tutto il giorno che cammina e lei appunto mi ha risposto che effettivamente non aveva fatto pipì perché c'era talmente tanto caldo che l'aveva evaporata mi ha piaciuto troppo la sua risposta settimana di cibo solo calabrese settimana solo piadine poi andata in Germania in bici mi è piaciuto tantissimo quella compagna la compagna diciamo che spesso non appare nei video perché non vuole la compagna studia medicina invece lei si è iscritta pure lei adesso all'università ma lavora anche e credo stia studiando se non ho capito male qualcosa riguardante il cinema ecco adesso non so dirti e però appunto fa questi video tipo quanto costa fare aperitivo al festival del cinema di Venezia che hanno trovato è bello quel video perché dopo riescono a scroccare da bere cioè troppo divertente ma è bello perché sembra di essere proprio lì con lei perché lei fa i video come me che ti parlano così e entri proprio nella sua vita ma è una vita semplice ma allo stesso tempo avventurosa come quella che vivo io che succedono sempre degli imprevisti cioè è bello non è la vita perfetta che ti fa vedere l'influencer quello che è sempre tutto perfetto tutto dovuto e cose del genere è proprio una vita semplice però allo stesso tempo bella cioè avventurosa cioè succede sempre qualche sfiga che è quella che fa partire l'avventura poi di solito perché si va sempre tutto bene che noia no? anche se sarebbe io vorrei così grazie che voglio perfetta no scherzo e settimana solo cibo napoletano poi quando prova le ricette le prova proprio da zero cioè si fa la pasta un tipo di pasta lei lo prova proprio la prova a fare da zero fa la pasta lei mi piace un sacco sta cosa perché è facile dire faccio la pasta non so al pesce e prende la pasta già fatta e ci schiaffa dentro il pesce facile no? invece lei fa da zero bellissimo mi viene voglia anche a me di provare e anche quando tipo sbaglia a fare qualche ricetta la mangia lo stesso cioè se è mangiabile la mangia anche se ti dice non è tanto buona però la mangia lo stesso la compagna Marta ogni tanto partecipa e però tipo ha le domande oppure ha fatto anche quando fanno i vlog perché a volte fanno delle specie di vlog che sono più avventure secondo me e quando fa quelli cioè lei perché vanno insieme e una cosa che mi piace è che vanno in campeggio insieme proprio con la tenda hanno anche un cane di nome Toast che nei primi video cioè all'inizio quando era arrivato era cuccioletto adesso è gigante e se lo portano in campeggio è bellissimo stupendo Toast detto tonti anche voi cioè i soprannomi come se mi piace si volevo parlarne lentamente ma io quando mi parlo di qualcosa che mi piace particolarmente mi agito e si diventano tutta così spero che sia comunque rilassante sto video comunque si mi piace tanto sul canale penso di aver visto tipo tutti i video perché quando trovo un canale che mi piace inizio a guardare tutti i video tipo dall'ultimo uscito fino al primo uscito no? quanto tempo ovviamente e quando e va a finire appunto che li guardo tutti se non ne hanno troppi e forse forse non li ho visti proprio tutti di quelli di un anno fa vedo che ne ho visti un po' un po' perché dopo anche lì li scelgo tipo ehm il miglior ragù vegetariano di sempre svidiatra ragù vegetariani non l'ho visto perché vedi alcune cose non mi interessano però ehm l'ho conosciuta con i video questi qua tipo ehm c'era un video c'era un video faceva delle ricette tratte dai film se non sbaglio e mi era comparso quello e mi ha incuriosito l'ho guardato poi basta da lì inizio a guardarli tutti ehm non è non ha una voce rilassante perché spesso anche guardo quelle cose lì cioè ehm ha la voce squillante ma nonostante questo non mi dà fastidio perché comunque coinvolgente è gioiosa è capito quindi le guardi volentieri è proprio mi piace tanto ecco bello questo canale spero che continui a fare video e che cresca perché appunto ah vediamo la sua presentazione descrizione ciao mi chiamo Silvio e faccio video ho deciso che dopo anni di attività è giunta l'ora di scrivere una descrizione seria faccio video principalmente di cucina questo non significa che io sappia cucinare ma mi piace mangiare e per poterlo fare mi ritrovo spesso a dover cucinare si è proprio una descrizione da lei mi piacciono tante cose in particolar modo la pizza potrei mangiarla tutti i giorni ed effettivamente l'ho fatto per una settimana in uno dei miei video è stata una passeggiata non so cos'altro dire sono alta 1,71 ma dico a tutti di essere 1,73 perché 7,3 sono i miei numeri preferiti io sono 1,73 tra l'altro ah si bevo anche un sacco di birra puntini puntini ippa basta non so cos'altro dire ciao tvb è così è così bella descrizione mi è piaciuta lei è così poi non è la classica influencer tutta tirata lei non non si trucca e veste comoda e mangia e parla con la bocca piena e cioè non come stare in casa con lei insomma come avere un'amica non è come si può dire dire però che non è femminile una cosa che mi è stata detta tante volte anche a me che secondo me la femminilità non è quella dello stereotipo di eh che devi averle tutta vestita sexy la femminilità non è quella è un'altra cosa però vabbè forse è una cosa soggettiva la femminilità è una cosa oggettiva non lo so cercherò la definizione ora femminilità il complesso dei caratteri che definiscono l'aspetto il comportamento proprio della donna e quali sono non si sa cos'è la femminilità per un uomo la femminilità è più che l'essere donna è una bitus è la sublimazione della bellezza la connessione fra fascino e anima e come tale ha contribuito ancor più della virilità dell'uomo al progresso della civiltà ma cosa vuol dire? voglio sapere cos'è? non si capisce cos'è? gli attributi più specifici della donna sarebbero sarebbero l'accoglimento la ricettività l'altruismo la tenerezza l'empatia la sensibilità la delicatezza la pazienza però abbiamo altri risultati come aumentare la propria femminilità vediamo eh vedi secondo me è uno stereotipo questo della femminilità se hai consigli su come valorizzare la propria femminilità faremo un video sulla femminilità no scatto amati per ciò che sei ok e ci sta focalizza la tua attenzione su tutto ciò che appresti di te invece di soffermarti sugli aspetti che reputi negativi e fin qua vale per tutti penso non solo per la femminilità due seleziona l'abito giusto trucco e paruro mani sempre curate eh mi manca quella eh gli accessori fanno la differenza ma cosa c'entra no secondo me non c'entra con la femminilità però vabbè forse io lo vedo più come una cosa filosofica che una cosa dell'aspetto fisico però vabbè associo di più a una cosa tipo la dolcezza una cosa così non soffermiamoci troppo perché sennò qua viene un video mega lungo siamo già a mezz'ora di video e voglio parlarti di un'altra youtuber so eh principalmente a questo punto ti dirò che seguo donne ed è giulia crossbow che è crossbow in inglese italiano vuol dire palestra lei si chiama giulia palestra però l'ha messa con crossbow perché è più figo no? ci sta e anche lei è un canale molto più grande probabilmente già la conosci ha 214 mila iscritti voglio dire mica no giulina lei è femminile però allo stesso tempo qualcuno potrebbe dire che non lo è però dal mio punto di vista è molto femminile lei quindi boh forse non ho capito niente della vita anche lei fa ce l'ha una descrizione al canale vediamo un po' ah sì leggiamo la sua descrizione del canale profilo a scopo ironico ludico riflessivo culinario musicale assettico acqua naturale sant'anna plum cake peluche di sherek e anche lei fuori dalle schemi ovviamente ciao mi dispiace che tu sia finito su questo canale probabilmente è stato un errore beh sono giulia vivo a roma e ogni tanto pubblico qualche video ma nulla di troppo serio se non ti sto troppo sulle palle puoi iscriverti ti mando un bacetto sincero se ti iscrivi sì vabbè qui ho presentato già giulia romana ragazza credo di 23 anni se non sbaglio e i suoi video adesso il tiraco un po' dei titoli ha fatto tipo trattoria economica come da tua nonna smash burger unti a turino prof ristorante di max mariola i migliori kebab di roma ho speso 200 euro al mercato dell'usato beh quello il video mi è piaciuto tantissimo allora fa video di cibo video di mercatini dell'usato quindi cioè tutte le robe che piacciono a me e ordino lo stesso cibo dei turisti a roma mangio solo patate ripiene ho mangiato il kebab più economico di milano colazioni imperdibili a torino street food unto vegano a milano provo il fast food di alessandro cattellano cibo dal supermercato ecco io l'ho conosciuta perchè sempre youtube mi ha consigliato e mi sto consigliando bene vedo no non sempre quello che mi consiglio mi piace in realtà cibo dal supermercato cosa c'era? forse Lidl perchè no? ovviamente prende delle va nel reparto rosticeria dei supermercati prende delle cose poi fa vedere come sono dice il prezzo insomma si discute tra virgolette insieme su se ne vale la pena se è buono eccetera eccetera mi piacciono questi video mi sono piaciuti tanto anche quelli ha fatto una serie nei mercatini portaportese di Roma e quelli mi sono piaciuti tanto ecco cibo dal supermercato e comparano tipo coppe alti ha fatto e insomma fa diverse serie in base a quella si sposta anche in altri paesi bello bello mi piace tanto su e lei è tipo palestrata palestrata no? e infatti ha fatto l'allenamento con Dani Lazzarin lei è ha un fisico cioè magari se la vedi così si dice ma è proprio un bel fisico è proprio una bella ragazza poi semplice non troppo truccata e poi mangia con le mani piace la cipolla insomma qualcuno potrebbe dire che non è femminile ma in realtà è lui è molto i video che fa li fa con molta passione oltre alla qualità video che è molto è molto bella sia per ciò che vedi che per quello che senti perché ci sono dei pezzi che dove sussurra che io io volo bellissimi che ogni perché lei anche quando va tipo non lo so nei ristoranti anche se c'è confusione lei si vede che si vergogna un po' no? quindi tiene un tono molto soft spoken ed è super rilassante per me e lei fa tipo delle parti in smr involontariamente anche quando appunto sussurra il microfonino che ha quel microfonino bluetooth che adesso vedo che hanno spesso gli youtuber che ha quei microfonini lì sono abbastanza smr se ci sussuri dentro secondo il mio punto di vista ovviamente e appunto sembra anche lei una ragazza molto alla mano e quindi ti parla così no? in prima persona io adoro perché quelli che parlano genericamente genericamente non è come parlarti in prima persona che ti dico senti creatura mi piace troppo perché ti sto confidando sto parlando con te anche perché non è che ci mettano in chissà quante persone a vedere un video giù giù di solito te lo guardi da solo quindi siamo giù e te questa cosa è bella è bella e dal mio punto di vista io infatti ho sempre parlato a te creatura non a voi che state guardando tu che stai guardando è diverso e è sempre come una come se fossimo in un eterno roleplay alla fine e comunque sì mi piacciono questi suoi video mi piacciono tanto mostra cose che magari non assaggerò mai oppure ti fa conoscere posti e cose che non conosci o anche se conosci insomma trattiene parecchio anche dei suoi video me li sono guardati abbastanza mmm eh eh stessi un fiato ecco ovviamente lei tra l'altro l'ho conosciuta diciamo l'ho guardata tanto nel periodo in cui io sono stata male e che avevo la febbre e tutto che se già e quindi ero tipo devastata e quindi mi mi sono guardata un sacco di suoi video e mi hanno tirato su poi lei fa spesso i video con un certo franchino franchinello come lo chiama lei e ho provato a guardare un po' dei suoi video ma quando non c'è lei quando sono loro due belli quando c'è solo lui non lo so non non mi ispiro non mi piacciono deve esserci lei se no non li guardo ok mi sono fissata può essere comunque ehm super belli questi due canali e se ti piace il cibo ti piacciono i mercatini ehm oppure ti piacciono anche lei succede sempre qualcosa quindi l'avventura è sempre dietro l'angolo quelli sono i veri bei video vlog che ti piace guardare e si ha anche Silvia della Torre perchè succede sempre qualcosa è bello insomma basta ti volevo parlare di questi due canali che mi piacciono molto e spero che questo video ti abbia fatto rilassare anche se mi sono un po' fomentata nel raccontarti non era non è stato poi così forse rilassante però a te basta che io ti giggiato che io giggia 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 ti racconto qualcosa e chissà di cosa parleremo nel prossimo cheat chat ehm ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura buon relax buon relax buon relax meredligt buon relax buon relax Grazie.